Siamo a Satura Art Gallery, a Palazzo Stella, dove è in corso la mostra delle opere dell'Accademia di Mosca, una grande anteprima. La mostra è stata organizzata per festeggiare il trentennale di questa istituzione moscovita e dopo l'anteprima italiana che è stata presentata al Vittoriano di Roma e arrivate direttamente qui a Genova. È veramente impressionante vedere questi lavori di grande formato che raccontano la storia dei diplomati, sono le opere che realizzano durante l'ultimo anno di corso, quindi sono le prime che testimoniano il passaggio da studenti ad artisti veri e propri. Il punto di forza dell'Accademia è proprio quello di voler preservare e tramandare il realismo russo e quindi vengono dati agli studenti tutti gli strumenti necessari per tramandare la tradizione, quindi la tecnica e quelle che sono anche le scene tipiche sia della loro cultura che della tradizione letteraria.